Faremo qualcosa di speciale. Dunque, un attimo di preparazione. Il pezzo che faremo è un pezzo che qualcuno probabilmente conosce. Chi ha ascoltato le più dei break me down? Cioè, no ragazzi, non va bene. Ci siete da! Vi sento poco carichi. Ci siete da! Così va bene. Questa? Questa? Mira, mira, mira. La festa è il tuo cuore. Questa? 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti